Abbiamo scoperto nuovi misteri della Serbian Dancing Lady nel suo gioco Perché in questo gioco, sulla mappa, ci sono nascosti dei posti dove appaiono dei segreti sui muri Che riguardano proprio la Serbian Dancing Lady Rider, c'è un dannato video e c'è scritto vi vedo Ora io non so se lei dice nel gioco oppure nella vita reale Però mi sto spaventando perché c'è anche lei qui fuori Ho sentito! Bisogna chiudere Rider mi sa che siamo finiti Eh da me, da me, da me, da me Eh ma non... Faccio il giro, faccio il giro Eh non si può fare... Non si può... Non si può... Criminale, non si può... Non si può... Mi ha preso a me, mi ha preso Iscrivetevi al canale e lasciate like per vedere Per restare sempre aggiornati sui prossimi video Attivate la campanella, eh, mi raccomando perché Qua abbiamo dei segreti, dei misteri da risolvere Via, no, 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 ti prego, vai via Rider! Rider! Non mi vede! Aiuto! Non mi vede! No, no, vabbè Questo non è giusto! Questo non è giusto, no, questo... No, 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 questa è la preferenza, no, non vale Stai zitto! Che bello! Non mi ha visto! Che bello! Allora, quando si spengono le luci è OP come roba comunque Ti giuro, non ti vede proprio È qui, Dunis! È qui! Che vuol dire qui? Dov'è? La sto chiamando? Ah, ma... Madonna, ma ho pensato che stavi parlando con... Andiamo, forza, dobbiamo trovare gli altri indizi Allora, eh, sono stranissimi questi indizi No, però non devo spegnere la luce, accidenti a me È stupido che so, no Sbaglio i tasti, sbaglio i tasti Non va bene sbagliare i tasti Ma guarda qui Le piace anche fare musica questa... Alla... Sì, vabbè, certo, come no Adesso le piace... Una pagina! Una pagina, vedi? Vabbè, prendi la pagina, dai Prendi la... Alla dov'è? Oh, che bello Ma vediamo se qua invece ci sono altri misteri Perché magari potrebbero esserci tipo dei quadri o delle cose Non si ha la voglia Oh, è vero! Qua c'è un altro mistero C'è scritto Sì, vi sento anche Ma come, scusa Ma in che senso? Ma ci ho sentito prima Quando avevamo detto che tipo nella vita reale Perché ha detto sì Cioè, c'era scritto sì Quindi, cioè, è come se ci avessi risposto Dai, dai, lì Scappa, scappa, scappa! Facciamo il giro perché così almeno non può prenderci Ma tu dov'è che sei? Ah, eccoti qua Davanti di te Ti sto seguendo Via Non ti prego, vai via Allora, dobbiamo anche andare tipo ad uno nuovo piano Dove si scende, scusa? Non ti gira No, ma preso! Che brutta! E da me non è il medikit E da me non è il medikit Io sto sentendo i suoi versi orribili E adesso devo andare nella lavagna, hai detto, giusto? Allora, perché non tutte le lavagne funzionano Forse questa Allora, vediamo se mi metto qua Perché devo anche stare fermo Se non non si attiva Allora, sì E spengo la luce perché sta arrivando C'è scritto che praticamente Lei ci vede e ci sente di nuovo Ma in che senso, Ryder? Non ha senso questa cosa! E poi continuano ad esserci i suoi video dannati E ci picchia Questa cosa mi mette un sacco di ansia A me sai cosa mette? Anzi, è fatto che le mirgiglie attorno E il fatto che lei ti abbia proprio preso Ma tu non hai il medikit, quindi hai detto No! Tecnicamente, ho trovato una chiave E qui ci sono aperte nuove porte E qua c'è anche un'altra pagina Vabbè, la prendiamo oppure no? Perché poi se noi la prendiamo Lei si arrabbia ancora di più Comunque qua c'è un medikit, Ryder Sì, però se noi non prendiamo le pagine Non possiamo neanche trovare le altre chiave Ah, ok Quindi le pagine ci servono per trovare le chiavi, giusto? Esatto, vedi? Se tu non prendevi quella Questa chiave non sarebbe... Sponata Ho capito Quindi, tecnicamente Dobbiamo per forza prendere le chiavi Ha senso Ricordiamoci dove sta In caso ci servirà per dopo Un'altra pagina Vai, io la prendo Cacchio, però qua Però adesso inizia ad essere molto arrabbiata La sento avvicina Raga, qua, allora praticamente Per chi non avesse capito Più prendiamo le pagine Più lei si arrabbia La Serbian Dancing Lady Funziona Eccolo Eccolo, gira, gira, gira Gira, gira, gira Oh, via, 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 via Come vedete Si è arrabbiata tantissimo No, via Cacchio No, 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 no Hai il medikit, sì Sì, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Ok, io me ne scappo a gambe levate proprio Via, via, via Scappa, scappa Scappa Anche perché lei mi sta Mi sa che mi sta inseguendo Perché mi vuole prendere proprio Eeeh Ai, 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 via, 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 via Io vado al piano di sopra, Ryder, ok? Va bene, va bene Ti raggiungo il primo possibile Raggiungimi il primo possibile Perché così Almeno possiamo stare insieme Oh no Ma mi sta proprio Scorreggiando addosso Qua c'è un altro medikit al piano di sopra Ok Vediamo un attimo se riesco Ho trovato una pagina, ho trovato Ottimo, ottimo Così Oh, 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 ok Che succede? Che succede? Il coltello È da me, è da me, è da me È da me Via, 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 via Scusa, non volevo dire Non volevo Non volevo dire una brutta parola Però devo farlo Perché così Vabbè, scappa, scappa Scendi solo giù Giù serve C'è un'altra porta dove serve la tua chiave Ok, fammi vedere dove È quella a mia sinistra Ho come l'impressione che lei mi stia Apri a sinistra Apri Qui? Sì, sì, apri, apri Entra, entra Entra Ah Ah Ah, veloce Ah, giriamola di qua Giriamola Via Scappa Dove ho trovato altri segreti Non abbiamo più trovato segreti Che cazzo stanno succedendo Forse lei perché ci voleva dire Che ci stava vedendo E trovando nella vita reale Vediamo se abbiamo capito bene Perché appena troviamo un nuovo segreto Tecnicamente lei ci dovrebbe rispondere A quello che stiamo dicendo Se lei ci sta capendo Però magari è impossibile Che ci stia capendo Perché se lo dico Non è possibile Vero, Raider? Sì, ma non è impossibile Potrebbe anche essere Che ne sai che magari Lei con tutto questo Ci sta distraendo E lei può Sapere noi in questo momento Dove siamo? E mi sa che Da giudicare dal fatto Che si è arrabbiata tantissimo Quando l'hai detto Mi sa che c'hai pure ragione Però È quasi impossibile È solo una tizia nel gioco Cioè poi c'è anche Sto facendo il trenino Io sono dietro di lei E lei è dietro di te Guarda ho visto È una scena abbastanza pietosa Dovremmo No, no È raccapricciante questa scena Ho capito Allora scusa Ma noi Come facciamo a trovare Nuove cose però? Tu hai un'altra chiave Giusto? Mi ha tirato un coltello Sta Vacca Adesso 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 C'è la chiave Ho una con la N E una con la P La N è quella dell'infermeria Quella con la P Dobbiamo trovare La P Cosa potrebbe essere? Forse è al piano di sopra Però dobbiamo Fare presto Perché non salire Se stai salendo Cambia la strada Perché c'è lei Dietro di me Che sto scendendo Ecco Allora Da resto morto Ma Curati 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 La sto portando sopra No 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 Cacchio Ti ha proprio preso Di brutto Allora Lei mi sta inseguendo Però qua c'è un medikit Tu ce l'hai il medikit Sì sì Ce l'ho Ok E dietro di me Aia Mi sa che mi sta per tirare Un coltello Però Aiaiaiaiaiai Brutta storia Brutta storia Quando tu senti il rumore Che sta per lancerti il coltello Fai destra a sinistra Ma preso Sì 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 Perfetto No 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 Dietro di me Dietro di me Madonna ma E' proprio quando Quando troviamo le pagine Si arrabbia tantissimo E' difficilissimo dopo Il fatto è che lei Non si sa come Lei sa sempre dove siamo rider c'è scritto sì vi ho sentiti scemi ma come si permette e poi come e ti ripeto non è possibile non è possibile già sentiti accidenti no 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 rider io mi rifiuto di credere che lei ci sente cioè secondo me ci sta facendo uno scherzo non è possibile questa cosa non è possibile no ma secondo me lei in qualche modo riesce pure a sentirci perché è impossibile che riesci a trovarci in qualsiasi momento in cui noi parliamo eppure questo c'hai ragione infatti guarda mi chiudo qua dentro chiudo la luce e non tecnicamente spero che non mi veda qua che se ho qualche dubbio ecco chiaro la oh mio dio mio dio raga avete visto mi è passata proprio vicino poi c'è pure delle mosche che le svolazze intorno mi ha trovato ma ha trovato scappa scappa no 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 rider è una pazza è una pazza è una pazza ma tu trova il medikit criminale non posso farlo anche se lo trovo non posso prenderlo mi devi curare tu è vero no una pagina ho trovato una pagina no 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 ti prego raga ha vinto la serbian dancing lady purtroppo mi sa è troppo forte per noi turis è troppo forte è troppo forte poi lei sa dove siamo per davvero quanto abbiamo capito e ci sente ma ripeto cioè secondo me questa cosa non ha un alcun senso iscrivetevi al canale lasciate like per vedere per restare sempre aggiornati sui prossimi video attivate la campanella e mi raccomando perché qua abbiamo dei segreti dei misteri da risolvere